E all'interno ci stanno tutte le cose più buone dell'umore. Il Giro d'Italia con Saporitali. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Conferenza dei capigruppo per discutere della situazione debitoria che l'azienda Alto Calore Servizia nei confronti del comune di Avellino. Circa un milione di euro la cifra da coprire. Questione che il presidente dell'ente di Corsa Europa, presenti a Palazzo di Città, propone di risolvere con la modalità della compensazione in opere. Il sindaco e i capigruppo di fronte a tale proposta hanno chiesto di avere un quadro più chiaro della situazione. Le parti si sono aggiornate per un nuovo incontro che si terrà di qui a breve. A fronte di più di un milione che il comune di Avellino deve ricevere dall'Alto Calore si procederà con la compensazione in opere. Gli uffici stanno già al lavoro per prevedere tutto ciò e quindi da questo si alleggerisce un po' e si dà anche un esempio per quella che è lo stop ad alcune procedure esecutive nel rispetto ovviamente del rigore amministrativo tra comuni e partecipata per consentire una riflessione generale su quella che è la condizione di Alto Calore per il proseguo delle nostre attività. Presidente, fin qui la situazione con il comune. Per quanto riguarda invece il futuro di Alto Calore? Un'azienda tutta pubblica che, ispirandosi ai criteri della legge Madia, dovrà puntare a salvaguardare i livelli occupazionali attraverso un contributo importante della regione Campania che deve mettere in essere, ha fatto l'esempio il sindaco Foti, tutti i principi che prevede il decreto Poletti, cioè la formazione dei lavoratori, la mobilità tra enti, che consentirà di alleggerire i prepensionamenti, che consentirà di alleggerire il costo del personale. Dall'altro punto di vista, lo diceva l'onorevole Giordano, occorre immediatamente attivarci tutti insieme, a prescindere dai contrasti e dalle divisioni politiche, per premere sulla regione affinché Avellino, l'Irpini e il Sannio siano considerati centrali nell'argomento acqua. Non è possibile, è di queste ore, che quello che ho detto io tre giorni fa nella prima audizione qui, cioè che Napoli paghi la metà della tariffa dei cittadini irpini e noi invece va dimenticato che l'Irpinia fornisce l'acqua a Napoli, ma addirittura pure a Salerno, attraverso Senerchi e Calabritto. Quindi occorre con il principio della perequazione, da un lato salvaguardare l'ente attraverso una risposta alla sua debitoria storica, dall'altro rilanciare il futuro di queste risorse come risorse importanti e noi fino in fondo, fino alla fine, difenderemo questi principi.